Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della seconda parte della costruzione della nostra stanza degli iscritti, però diciamo continuamente, ciao a tutti, lascia stare, lasciate stare, ah si nel prossimo commento è la visione dell'escritto, io ho detto se volevo andare in qua, sono in, 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 aspettiamo la vostra, aspettiamo la vostra risposta, eh, credo che così basti, eh, no, si, tu, tu, perché tu non gli hai fatti tutti uguali, hai fatto uno più grande, ma cosa questo tetto è più piccolo di quell'altro ma guarda te sono stanche di lavorare di lavorare ah, è vero ragazzi vi voglio vi voglio andare a fare vedi che gli atta non è rotto di lavorare di lavorare di lavorare d' Singapore di lavorare di lavorare di lavorare il aia sono caduta perché c'era una ragione dov'è io mi vado a riappare ok io sto ma perché hai fatto ma invece funziona ancora benissimo non arrivate avete visto prima non avevamo così tanti arti e così tante cose avete visto ragazzi adesso nell'altra parte vi faremo vedere di come si fanno aia ecco ragazzi vedete che non è guardate avete visto c'è un enderman ma non può ma non mi ricorda più sono l'uvi ma comunque oggi la forma di pesca funziona dobbiamo aspettare poi tanto ma poi vedrete come verrà il nostro male adesso andiamo nel portale si no si no si no si no Ma sono appena intratto, scusa. E' vera? E' vera? Ma non è vera? E' vera? E' vera? E' vera? Nei, ma sono fritto. E' vera? E' vera? E' vera? io sto facendo il tetto sto facendo la fatica voi immaginate il adesso muore il corso ma forse forse sta casa lo daremo a un'altra la casa abbandonata forse lo daremo a un altro mi prendo un arco inciantato anzi poi uno stack di frecce iniziamo alla battaglia di gust bravo combatti oh finetto bene per questa cosa dovete lasciare cinque like e arriviamo per questo video cinque like se non arriviamo se non ci arrivate faremo uno scherzo se non ci arrivate perché se non ci arrivate si c'è un lama dentro a casa nostra a casa vecchia e c'è un ragno dentro a casa vecchia vecchia ci arrivate ci arrivate i mobili infatti per i mobili una realtà io ho distrutto poi in là ma come è fatta non mi spiego niente e ānum anna a no pió di pió 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 danna danna Grazie a tutti. Grazie a tutti.